3, 2, 1, GO! Sono veramente molto curioso perché io non l'ho mai toccata questa modalità in questo gioco Quindi non so come andranno a finire oggi le sfide ragazzi Non so se esiste praticamente un rango mano a mano che tu riesci a sconfiggere persone in tua mente di rango Questo non lo so ancora perché è la prima volta che gioco qui online Ma prima di iniziare vi ricordo che questa sera alle 19 c'è l'ultimo appuntamento della serie di Super Mario Bros 3 E quindi ragazzi vi consiglio di andarlo a vedere Oggi alle 19 vi aspetto sempre qui sul canale non mancate mi raccomando Detto ciò possiamo iniziare a fare questa modalità online Allora Utenti con una connessione stabile Caricare replay, comportamento inappropriato E addirittura Vabbè inattività, disconnessione, autodistruzione continua Accanimento verso un unico giocatore Nickname inappropriato Bene Non fanno a caso mio Detto ciò tutto il resto va bene Ah ok doveva andare sotto Perfetto io pensavo che doveva caricarsi Immaginate un po' come sto messo Comunque dai Eccoci qua la scheda smash 1 Che è una scheda che ti identifica Necessaria per l'incontro online Quando la crei puoi scegliere un'icona e un colore Bene Puoi collezionare le scheda Versare che affronti a tal fine Mandare a KO In un incontro online Ottieni una posizione migliore della loro Ok Assegna un messaggio con i pulsanti No vabbè Dai io però volevo scrivere qualcosa nel messaggio No i messaggi prele No come si chiamano I messaggi prele selezionati Come cazzo la si chiamano I messaggi selezionati Ecco del gioco Comunque Ah vedete che figo Icona Wow Che figo Che ci mettiamo Che figo raga Guardate quanti cone No vabbè Non lo so ragazzi Che ci Non so ragazzi Che ci posso mettere Mi piacciono quasi tutte Dai Mi piacciono veramente tutte 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 Che ci posso mettere ragazzi Non lo so Non lo so Un classico Pikachu No è troppo banale Ecco mettiamo questa Che figa Bella Colore Giallo O verde No no Oppure rosso Bel rosso dai Ci sta Messaggi Inizio fine Ah posso cambiarli No vabbè No vabbè No vabbè Io non mollo Ma cosa Ci vediamo Ottimo lavoro Non lo so Fantastico ragazzi No vabbè No vabbè Beh c'è più scelta Ragazzi eh Di messaggi questi qua Selezionati dal gioco A confronto di Mario Kart Eh figo Rai Eccezionale Via via Andiamo va Non perdiamo tempo Ok Notifiche Ricevi Ma che cosa Vabbè Andiamo salva Stiamo mettendo più tempo così Che via Allora abbiamo solo queste due opzioni Mischia E spettatore Direi di andare su mischia Stanza smash Questa me sa che Ecco Regole personalizzate con gli amici Penso che Funzionerà Andiamo su sfida rapida Vediamo un po' Chi incontriamo Qui vabbè Regole prioritarie Non ci interessano Cooperativa Ah che figo Puoi giocare pure in due Tipo con un doppio joycon Ragazzi Vabbè figata In singolo Ok Per adesso ragazzi Questi sono i miei Pochi Ancora ragazzi Sono pochi Personaggi che ho sbloccato Direi di iniziare con Lucario Perché è l'ultimo Che ho sbloccato E veramente sono curioso Di provarlo Perché non l'ho mai Mai provato Quindi vediamo un po' Come riesco a giocare Con lui Vediamo un po' Logicamente tutto sarà online Ci saranno ovviamente Quei giocatori Fortissimi Che mi batteranno In un batter d'occhio Però noi ci proviamo Comunque Ok Vediamo un attimo Le mosse Ah figo Adesso questa è L'arena di prova Ragazzi Come vedo Ok Ebbè Lucario Sai fare solo questo Ok Vabbè Lo prendi così Facciamo così Ok No ecco Ha trovato Ah siamo No Siamo in quattro Pensavo in due Ragazzi Qui si fa seria la vicenda Qui si fa veramente seria Porca puttana Porca puttana Io già Ecco 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 Fermi 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 Non riesco ad attaccare Non riesco ad attaccare Vai 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 Eh mamma mia Ma questi C'hanno un attacco No Che cazzo è successo Affa culo No 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 Mi hanno buttato loro fuori Ma che cazzo dico Ma io non riesco a fare niente Ragazzi Ma che è Dai Lucario Ah Lucario Che cazzo d'ora mi fai No no Io cambio Dopo ragazzi Devo cambiare per forza personaggio Ma che è Lucario Porca puttana Pensavo che era più forte Ecco Mi hanno battuto Mi hanno battuto ragazzi Ma io no Non riesco a fare un attacco Con Lucario E se Ebbah Fanculo Ce l'hanno tutti con me Che posso fare O non riesco a attaccare Raga Col boomerang Forse qualcosa riesco Non lo so Uh Dai L'ho fatto io Quell'attacco O no O si o no Non lo so ragazzi Non lo so Quanto deve durare E ancora voglia 5 minuti Ammazza quanto durano Queste partite Un botto E' Ah ma che è Sta botto Oddio Sono mezzo So tutto fumo So tutto fumo Ma che è Tutto sto Ma cosa ragazzi No 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 Chi è diventato Mario Aia Dolore No dove sono io ragazzi Non riesco a capire Ah eccomi Pensavo che Mi avevano buttato fuori Ma che sta facendo Quello Col martellino Aia No Dove sono io Ragazzi io non ce sto capi niente Eccomi Non lo 0-2 Sono io questo Ma E vaffanculo Peggio dei Dragon Ball Ragazzi Lucario E vai No 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 Vaffanculo No Mannaggia questo ponte E niente ragazzi Non è che sono tanto forte Mi rimane Una vita Che bello Vero Ecco uno è già morto Già è tanto Che non siamo arrivati ultimi Per carità Alla fine Non è che ho Collaborato Tanto nella battaglia No 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 La mia È mia Quell'ultima mossa No vieni Dai Dai No 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 E dai Facciavoli fuori Oh ma guardate Quanto corre Aia Aia Ma dove è andato a finire Oh Aia Che culo Allora aspettate 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 Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Prendetemi Vai Mossa di Kirby Ah ah Ti godo L'ho buttato fuori Sto Octo Certo che non scherza Sto Samus Eh A volte non capisco Cosa Cosa fa Luca Oddio Ma che è sto lag No raga Ma che è Sono forse io Con la connessione Ah Dolore Ma perché Ecco Siamo Siamo rimasti Io E Samus Però Lagga Ecco Già meglio No 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 Il razzo no Non me lo mette Là in quel posto Perché Veramente Non ci sto Allora Mi sa Prima che me Prendi Octo Passano i mesi Parte ragazzi Fanculo No 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 Lui ci riesce Praticamente No No Fermate La banana La banana è inutile Che apprendiamo Sta banana Che possiamo fare E va a fanculo Mi ha tolto un bel po' Ragazzi Ah Bravo Lucario No mia Intanto Non riuscirò Mai A prendere Sta mossa Speciale No Impossibile Ecco Mi ha buttato fuori Così Nemmeno me ne ho accorto Nemmeno me ne sono accorto Ragà Mi ha buttato fuori Così Vabbè Già tanto Che siamo arrivati Secondi Con Lucario Vabbè Va bene Va bene Va bene Oddio ragazzi Certo però è divertente Però se c'erano tipo Dei ranghi Era più divertente Di nuovo lo stesso avversario No Io vorrei cambiare Mettiamo un altro Personaggio Ragazzi Certo Non me la so cavato Tanto Oddio No vabbè Posso cambiare pure Il colore Adesso che scopro Sta roba Che figo No 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 Tutto pronto Allora io voglio scegliere Questo qui Di donkey kong Non l'ho mai provato E lo proviamo oggi Chi se ne frega Vai Chi se ne frega Siamo questo nemico Di donkey kong Classico Vediamo un attimo Come me la cavo Vediamo un po' Poi le mosse Non le so ragazzi Purtroppo Ok No figo Così lanci il coso Poi questo Ah ok Fa delle mosse Un po' di kung fu Poi così lo prendi Lo butti Proprio per terra Ah vola pure Perché non posso volare io Che è sta mafia Io non posso volare Vabbè carine sono le mosse Dai Perché no Pure il guantone Boom No figo Vabbè queste sono le provocazioni È vero Ma io Nelle partite No Le provocazioni Che si fanno Con i tasti direzionali Non li faccio mai A parte che sono inutili Se vuoi prendere Per esempio In giro Il Lo sfidante È qualcosa di figo Però ragazzi In partita Quando sei Oh Questa volta siamo in tre Sempre uno Versus uno Solo che Ma che è qui Che cosa lancia Sto cazzarola De De coccodrillo Ma sono già morto Sono già morto Ma questo è un panzone No Ma ci mette mezz'ora Per camminare Boni 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 Ecco Beccatevi sta banana Ecco è scivolato No vabbè Mamma mia Vieni qua Bowser Che figo Tipo questo qua I due Nemici Principali Della serie Di Mario E Donkey Kong Figata Proprio Uno scontro Decisivo Ok La baguette Oh Ho fatto fuori Bowser Ragazzi E questo Che sta facendo No 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 Non 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 mi ha preso Giusto Ah ci godo Ci Aia Ci godo Ragazzi Aia No 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 Oh ma io non riesco Mai a prendere Sta mossa Smash Che sta No 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 Bowser No No ti prego No ti prego No ti prego No ti prego Vaffanculo Pezzo di merda Vaffanculo Si è presa la rivincita Bene Rivincita No Ehm Volevo fare Moralità schiacciamento Moralità sasso Non so come chiamarla Dovevo Farlo salire in picchiata Ma Me fanno fuori Ma come fanno questi Sono morto Sono morto Bene Dai Ma che peccato Dai Raga Non è proprio Ha vinto Bowser Non ci credo Bowser Vaffanculo Bowser Bowser Come cazzo L'ha si dice Mortacci tua Mortacci Eh Se non mi avevi tolto Quella vita Potevi scegliere Questo qui Come si chiama Keshiro Chi è questo Eh Chrome Vabbè Eh Vabbè Comunque Assolutamente no Cambiamo personaggio Però è divertente Devo dire la verità Perché ti incontri Con delle persone online Così a random E a questo punto No Non voglio Vorrei utilizzare Link Dai Ci sta Perché no Facciamo Un'ultima partita Ragazzi Con Link Vediamo un po' Come me la cavo Però dai È divertente Però È divertente Pure vedere Prima Lo scontro Decisivo Con Bowser Con Bowser E Quello lì L'antagonista Di Donkey Kong Figata Comunque Perfetto Siamo sempre 3 conto 3 Link Forse Mi riesco Riesco meglio A giocarlo Forse Dico forse Ok Chi è Ganondorf E Fox Perché mi fa iniziare Proprio Al bordo Ah Ma non me la Oh Fermi Fermi Oh Ma che vi ho fatto di male Nemmeno Ho usato il mio attacco No L'aiutante è mio Fanculo Bastardi lordi Mi hanno fatto scappare L'aiutante No io non ce so capire niente Non riesco a fare Nessun attacco Vaffanculo Bell'arco Ah No Ma come mi hanno fatto a buttare così giù Come una botta ragazzi Oh E basta Fox Hai rotto le palle No 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 Salvati Eh link Vaffanculo Eh Non riesco a salvarmi Io ancora non riesco a capire come fanno I pro player A salvarsi Da una distanza del genere Ci riescono eh Però io ho l'unico stronzo Che non ci riesce Ancora Oh ma Fermi 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 Non riesco a capire No l'aiutante Vaffanculo Ma che è questo Ma chi è Mister Cervello Il cervello Tacci sua Ma che cazzo è sto personaggio Che toglie così un botto L'aiutante è quello ma Aia Non voglio morire Eh non voglio morire Eh Fine Perfetto Abbiamo perso Abbiamo perso Ma non vaffanculo Ma vaffanculo Eh Ma io non posso Voglio vincere almeno una partita Perché voglio essere soddisfatto Cazzo Voglio essere soddisfatto Posso essere soddisfatto ragazzi Voglio vincere una partita Eccezionale Eh Che brutta partita Allora Prima abbiamo giocato con Link normale Adesso ragazzi Mi sono scelto Link bambino Ragazzi almeno Dovrebbero capire Cioè Non possono battersi Con un bambino ragazzi Devono avere pietà di me ragazzi Perché altrimenti qui Non riusciamo a vincere nemmeno una Uh che figo Quelle di Splatoon Vabbè Questa è l'allenamento ragazzi La foglia di No vabbè Vabbè Sono diventato Mario Procione Figata Vabbè Comunque Eccoci qua In questa nuova battaglia Tutti contro tutti E siamo in quattro Nella mappa Di Splatoon Coincidenze Io non credo Porco cane Nemmeno riesco a vedermi Tra un po' Siamo troppi giocatori Non so perché Ma c'è Un input C'è un output Lag Incredibile Non riesco a gestire bene Link bambino Cioè non riesco a fare gli attacchi Con Link Vaffanculo No 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 Non battetemi Sono un bambino Fermi Fermi tutti Io resto qui E vi guardo Fermi Fermi No 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 C'è Greninja Ragazzi Il Pokémon Che assolutamente Mi piace Ah che dolore Vai Link No 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 Meglio che non ci mettiamo In mezzo ragazzi 87% Ragazzi No 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 Vai Link Vai Link Grandissimo Cerca di resistere Non attaccare Non attaccare Ma resisti Eh Le mie ultime parole Dai No 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 Fermi Fermi tutti Fermi tutti No Link No 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 Greninja Che cazzo Sta facendo Niente Andiamo a dargli Un po' di fastidio Ma Troppo veloce Troppo veloce Troppo Ah no È della mia squadra Ma io che cazzo Ne so ragazzi Greninja È della mia squadra Ah Sì Perché ragazzi È vero Adesso che me ne so Accorto Ma io veramente Ma che ne so Che Le modalità Cambiano Perché c'è la freccetta rossa Figata Greninja Grandissimo Aiutami Aiutami tu Aia Dolore No Non sto cavando niente Mi sa è morto Link Cioè ragazzi Ma qui Vedo troppi Link Ragazzi Non so quali sono Greninja mi sta aiutando Tantissimo E grazie a lui Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Sì ragazzi Abbiamo vinto Oh Può essere la team Ragazzi Almeno una partita Abbiamo vinta Figo 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 Bello 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 Eccezionale Io non ho fatto niente Ragazzi Però va bene lo stesso E per questo ragazzi Ci ritorneremo Presto ragazzi Con un nuovo video Di Super Smash Bros Per oggi Però è tutto Quindi ragazzi Questo video Può finire Così Ebbene ragazzi Questo video Di Super Smash Bros Ultimate Su questa modalità Online Può finire così Oggi sarà Veramente la mia Primissima volta In questa modalità Online Avete visto Che i giocatori Online Rispetto a me Sono molto Ma molto Più forti Di me Tra l'altro ragazzi Devo migliorare Molti aspetti Come per esempio Ritornare nell'arena Quando sono in una distanza Molto Possiamo dire Molto Lontana E quindi Devo migliorare Questo aspetto Perché muoio Ragazzi Ci sono giocatori Che riescono a Ritornare nell'arena In una distanza In una distanza Veramente Incredibile Io Veramente Ancora no Dovrei migliorare Questo aspetto Dovrei pure capire Come funziona Per ritornare In questa arena In così poco tempo Così velocemente E poi Devo migliorare Nell'attacco Perché alcuni attacchi Io li prendevo Così a random Ma gli altri Ovviamente Li riusciavo Oppure Cazzeggiavo Nella mappa È una cosa incredibile Ancora devo migliorare Questi aspetti Pure se il gioco Lo ho Praticamente Da fine gennaio Comunque Va bene Va bene Va bene Spero che vi sia piaciuto Passate una buona Pasqua Ci ritorneremo Presto In questo gioco Possibilmente Facendo meno Figure di merda Comunque Chi non è iscritto Iscriviti subito Mi raccomando I social Sono qua sotto In descrizione Instagram Lollo Zero delle best E Telegram Pioccia Lollo Zero delle best Ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio D'avete visto Questo video E Ciao 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 Ciao